carissimi bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechezza di ciò che riguarda questo grande mondo del divin volere in quella particolare forma peculiare di contatto con il signore con la divina volontà e quindi al tempo stesso evidentemente di preghiera che appunto il giro ricordo che per aiutarci mentre siamo giunti questa puntata dovrebbe essere la 17 e siamo più o meno un po più di della metà del nostro testo di riferimento che è ripeto il titolo per chi volesse insomma scaricare dai siti di don paolo martin che girare nella divina volontà per dare alla maestà suprema di cambio d'amore ad ogni suo atto selezione di brani tratti dal libro di cielo della serva di dio luisa piccarreta la piccola figlia della divina volontà ora andiamo subito al brano di oggi stiamo facendo un alexio continuo appunto di questo testo che è appunto una una collazio una raccolta di brani utili a meditare riflettere su questo particolare ecco esercizio chiamiamolo anche così spirituale che gesù ha evidenziato ha fatto notare alla piccola figlia della divina volontà appunto a luisa il primo brano non so se faremo soltanto questo riusciremo a farne due vedremo è tratto dal volume 24 23 luglio 1928 il titolo è l'anima che vive nel fiat è il punto luminoso nel mondo tutto fu creato per l'anima voglio girare nel divino volere per portare tutte le cose create al nostro creatore continuando il mio solito abbandono nel fiat supremo avrei voluto abbracciare tutti e tutto per fare che tutto diventasse volontà divina ed il mio dolce gesù uscendo dal mio interno mi ha detto figlia mia nell'anima in cui sta la mia volontà è il punto luminoso del mondo e come si vede un sole sotto la volta del cielo che con i suoi raggi investe la terra e con la sua virtù di luce penetrando ovunque abbellisce colorisce feconda la terra tutta così si vede un altro sole più bello più fulgido nel punto del mondo cioè nell'anima dove regna il mio volere divino ed i suoi raggi si allungano tanto si allargano e abbracciano tutto e tutti com'è bello vedere dal cielo questi punti luminosi nel fondo della terra non sembra più terra ma cielo perché c'è il sole del mio fiat i suoi raggi abbelliscono fecondano e gettano tale varietà di colori divini da comunicare con la sua vita di luce e la varietà delle bellezze del creatore del creatore dove ci sono questi punti luminosi viene arrestata la corrente del male la stessa mia giustizia si sente disarmare dalla forza di questa luce e cambia flagelli in grazia questi punti sono il sorriso della terra la loro luce fuoriere portatrice di pace di bellezza di santità di vita che mai muore si possono chiamare i punti fortunati della terra perché c'è in mezzo a loro la luce che mai tramonta la vita che sempre sorge invece dove non ci sono questi punti luminosi la terra è oscura e se qualche bene le creature fanno sono come quelle piccole luci che non hanno raggi perché manca in quel bene la sorgente della luce perciò non tiene forza nei virtù di allungarsi e allargarsi mancando la sorgente e quindi le piccole le luci sono soggette a smorzarsi e la terra resta oscura come sepolta in fitte tenebre perché la volontà umana è foriera e portatrice di mali di turbazioni di disordine e cose simili sicché l'anima dove non regna il mio volere sbuffa tenebre ombra ed inquietudine e se fa qualche bene è un bene investito di nebbia la sua aria è sempre malsana i suoi frutti immaturi la sua bellezza scolorita tutto al contrario dove regna la mia volontà questa è la vera regina che domina tutto da pace a tutti fa bene a tutti ed è la benvoluta da tutti e mentre fa bene a tutti non ha bisogno di nessuno perché la sorgente del mio volere che possiede le fa sorgere tutti i beni onde seguivo il mio giro nel volere divino per portare tutte le cose create al mio creatore cielo sole tutto come adorazione profonda al mio dio e potergli dire cielo mi hai dato stelle sole mare ed io tutto te lo ridò come contraccambio del mio amore ma mentre ciò pensavo il mio dolce gesù mi ha detto figlia mia ah sì tutto ho creato per te e tutto ti ho dato ogni cosa che creavo pensavo prima a farti il dono e poi lo mettevo fuori e te ne feci tanti di questi doni che non è dove tenerli e il mio amore per non tenerti impiacciata ti diede lo spazio dove tenerli in modo che mentre te le godi ora una cosa ora un'altra tuo piacere non sei ingombrata tenendo ciascuno il loro posto per starsi a tua disposizione ora se tu sapessi con il nostro contento quando vediamo la piccola figlia nostra prendere il suo volo nella nostra volontà per portarci il cielo le stelle il sole tutto il resto per contraccambiarci con gli stessi doni che le abbiamo dato noi sentiamo la stessa gloria il nostro amore la ripetizione delle opere nostre e riconoscendo che se lei avesse poterle di potere di farle ce le farebbe per primeggiare sempre nel nostro amore verso chi vive nel nostro fiat le diamo il merito come se la creatura avesse fatto il cielo per amore nostro il sole il mare il vento insomma tutto la contraccambiamo come se essa ci mantenesse tutta la creazione per darci gloria e dirci che ci amo la mia volontà ma tanto che vi venisse che non c'è cosa che ha fatto potesse fare che non dice all'anima facciamolo insieme affinché possa dire ciò che ho fatto io per amore suo lei lo ha fatto per amore mio allora amici come sempre questo è un brano commenti monotoni sempre la la prima reazione a questi brani come dire è assolutamente monotona proprio noiosa ecco perché la reazione sempre di estrema ammirazione di e di lode con attributi aulici quindi stupendo meraviglioso fantastico scusate o cose del genere ora io ripercorrendo questo brano vorrei partire dalla fine un'espressione di gesù no che fa capire come dire uno degli aspetti proprio più belli più entusiasmanti più importanti ed anche un'altra cosa come quando c'è veramente ciò di cui sto adesso per per parlare quindi mettendolo semplicemente in evidenza ce l'ha evidentemente già detto gesù neanche troppo tra le righe quando c'è questo c'è tutto allora attenzione nella nell'ultima parte di questo scritto dove gius spiega uno dei tanti giri possibili quindi giro nel fiat creante quindi prendo in considerazione rifletto guardo le creature più belle che di che dio ha fatto per me riconosco quelle come segni del suo amore e gliele dono in contraccambio dice ma che cosa gli doni niente che cosa gli dono quello che ha fatto lui che cosa possiamo dare noi al signore anche se al signore gli dono me stesso ma chi mi ha fatto a me d'accordo con con dio si tratta sempre di restituirli quindi di dargli in contraccambio ciò che è suo queste cose grandi però sono un pochino più degne della della sua gloria no attenzione un'espressione che dice gesù se tu sapessi se tu sapessi il nostro contento quando vediamo una piccola figlia nostra che ci porta il cielo le stelle e il sole no noi sentiamo la stessa gloria il nostro amore e conoscendo che se lei avesse potere di farle ce le farebbe cosa sta dicendo gesù sta dicendo che l'anima è così contenta di riportare al signore queste cose perché sono cose degne di lui ma se potesse cioè se l'anima potesse creerebbe lei stessa un cielo da donare al signore quindi capite cosa c'è dietro questo qui e anche questo deve farci un pochino pensare un po alla nostra persona le preghiere che cosa gli diciamo noi al signore quando stiamo in preghiera con lui quando stiamo da soli davanti al santissimo sacramento quando stiamo facendo ringraziamento dopo la comunione quando ci chiudiamo in camera come dice gesù nel vangelo dice chiusa la porta prega il padre tuo nel segreto oppure stiamo facendo l'ora santa in questo mese di giugno che gli dice al signore nel giro tu gli stai dicendo ma guarda sono troppe le cose che tu hai fatto per me è troppo l'amore che tu mi hai dato io vorrei inventarmi qualcosa per poterti ricambiare tutta questa ubriacatura continua di amore di cui mi circondi e questo è sempre vero e più ci pensiamo e meglio è cioè vivere nella divina volontà tante volte credo che ce lo siamo detti ma anche gesù più o meno dentro questi scritti gira intorno a una quindicina forse una ventina di concetti fondamentali ma poi sono una quindicina ventina forse 30 ma poi alla fine cioè in 36 volumi li riprende li sminuzza li considera sotto una infinita varietà di punti di vista quindi per per farci entrare bene dentro il cuore ma quindi è inevitabile che si cada in ripetizioni no ma c'è una trasformazione del rapporto con dio diventa un rapporto di puro amore continuo cioè in continuazione l'anima che vive nella divina volontà è attenta al fatto che qualunque cosa ma proprio tutto quello che c'è in 24 ore è un atto di amore è un atto di amore di dio nella meditazione di questi giorni forse proprio stamattina o ieri mattina a un certo punto il signore parlava dice ma sai quando ci stanno gli incidenti o le contrarietà le croci le cose quindi che a noi sembrerebbero da fuggire da evitare no 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 porta attento che anche lì c'è la mia volontà io anche lì ti sto amando anche se non sembra figuriamoci nelle cose meravigliose che il signore ha sparso nella creazione bellissimo questo particolare conoscendo che se lei avesse potere di farle ce le farebbe e qui dobbiamo cioè capite quante cose ci potessimo inventare nella nella preghiera no non sono cose da da nulla queste guardate che il signore risponde che oi lui come dire esulta di gioia sapessi il nostro contento quando vediamo la piccola figlia nostra prendere il suo volo nella nostra volontà questo è un'altra è un altro concetto clou di questo di questo mondo no fare contento l'altissimo è possibile sempre qualche giorno fa nel mitico volume 28 forse la settimana scorsa Gesù ne ha detta una grossa quanto una casa e quindi così chi segue le meditazioni dice che se uno fa tanti atti nella divina volontà sarebbe come se lo chiudesse dentro un cast una sorta di di castello e lui non vede più niente quindi tutto quanto l'orrore ah guardate che oggi gli orrori che stanno sotto gli occhi dell'altissimo per carità di dio proprio non cioè il mondo non è mai stato un bel teatro ma veramente oggi stiamo veramente raggiungendo siamo ampiamente al di là del sopportabile non dimenticherò mai quell'espressione del caro Benedetto XVI lui un uomo così buono così così sensibile che pur con tutta la sua pacatezza ma si capiva anche con grande dolore parlando della liturgia parlava di abusi al limite del sopportabile parlava della liturgia e si eravamo giunti al limite del sopportabile ah qui adesso siamo andati ben al di fuori anche della liturgia e ben al di là del sopportabile allora se tante cose fanno soffrire noi cioè perché chiunque ami il Signore e ami la Chiesa non può non soffrire vedendo tante cose poi che questo non legittimi nessun tipo di reazione scomposta o disordinata questo ce lo siamo detti tante volte ce lo dobbiamo mettere bene in testa ma insomma soffrire non è mai un peccato insomma mai nessuno potrà andare a dire ah cosa fai disgraziato soffri per queste cose ma tu non sei in comunione con la Chiesa ma io proprio perché soffro per queste cose sono in comunione sono in comunione profonda con con la Chiesa dico non scherziamo dico però certamente dall'alto non credo che il nostro Signore veda o la Madonna certe cose con con occhio non sofferente no e cioè qualche giorno fa il Signore dice guarda che se tu fai gli atti nella Dina Volontà se tu mi circondi io non vedo più il mare sono delle frasi che lasciamo sconcertate insomma no perché però noi dal nostro dal nostro canto stiamo in ascolto Gesù l'ha detto è l'ultimo che sto a cervellare se ma lui non vede niente ma lui è Dio ma lui è onnisciente quindi vede ogni cosa come fanno a vedere le cose che so ste stupidaggini e se ci mettiamo a ragionare su queste cose qui a ragionare alla umana non finiamo più però questo è questo è quello che Gesù dice e dice la contra cambiamo come se essa ci mantenesse tutta la creazione per darci gloria e dirci che ci ama cioè quanto sta a cuore a noi la gloria di Dio è che Dio si senta ma attenzione guardate che è molto più importante siamo anche nel mese siamo nel mese del Sacro Cuore siamo nel Corpus Domini perché guardate che a Roma dove si segue ancora il calendario antico per l'ascensione per il Corpus Domini il Corpus Domini è già cominciato sono i primi vespri chi celebra e segue il vetus sordo nella liturgia sa bene che oggi sono i primi vespri del Corpus Domini domani la solennità del Corpus Domini che come già l'ascensione è stata spostata alla domenica seguente per ragioni pastorali dalle conferenze episcopali ma domani il Corpus Domini intanto è vero che Gesù quando chiese di istituire la festa del Sacro Cuore disse nel primo giorno dopo l'ottava del Corpus Domini perché l'ottava del Corpus Domini è giovedì prossimo il primo giorno dopo l'ottava del Corpus Domini è venerdì prossimo che appunto è la festa del Sacratissimo Cuore di Gesù quindi la festa del Sacratissimo Cuore di Gesù non ricorre di domenica perché rispetta appunto questa disposizione data al suo tempo di Gesù chiusa la parentesi questo va a dire ricordiamo quello che Gesù ha detto a Santa Margherita la rivelazione del Sacro Cuore ecco il cuore che ha tanto amato il mondo vedete la grammatica dell'amore le frequenze su cui è sempre sintonizzato il Signore e in cambio non riceve altro che ingratitudini freddezze indifferenze oltre agi irriverenze e sacrileggi solo per dirne qualcuna almeno tu amami e ripara questo è proprio in due parole le rivelazioni del Sacro Cuore sono questo ma vogliamo vogliamo parlare di quello che Gesù ha ricevuto e sta tuttora ricevendo ininterrottamente nell'Eucaristia ora o uno muore di crepa al cuore se ama il Signore vedendo tante veramente oppure soffre e si preoccupa di come veramente portare al Signore una riparazione adeguata ma la riparazione più grande è veramente come dire bendarlo il Signore non guardare mi basta che soffro io tu no pensa ad altro che già ti sei umiliato troppo nell'Eucaristia non le guardare queste cose ma noi sappiamo che queste non sono preghiere questi sono deliri perché è impossibile che ti guardi queste cose qui però quando ti capita un brano quello di qualche giorno fa ti dici ma chi lo sa che succederà proviamo però capite che tutte quante queste cose un'anima che non è innamorata del Signore come dice San Paolo queste sono follie sono sproloqui come pazzie San Paolo dice l'uomo l'uomo carnale non comprende le cose dello spirito e se sono follie per lui ecco analogamente ecco perché la vita nella divina volontà è anzitutto vita d'amore perché la divina volontà l'abbiamo visto qualche giorno fa è il motore dell'amore è ciò che come dire aziona secondo il nostro modo di parlare l'amore che è la vita stessa di Dio che è la divina essenza e che è quindi l'anima di tutto ciò che Dio è e fa se c'è questo se una persona ama tanto il Signore sicuramente qualche giro lo fa anche in maniera inconsapevole perché i giri sono fondamentalmente un grande un grande gioco d'amore se noi vogliamo insomma è un gioco d'amore chiaramente che si gioca sulle frequenze sopranaturali però è un gioco d'amore è come dire molto lontanamente molto più sublimemente si passa sublimemente se si può dire molto più molto più divinamente però analogo come dire due persone che sono innamorate veramente giocano a sorprendersi a inventarsi qualche cosa di nuovo per manifestare l'amore quando si è innamorati questo è cioè se non si fanno queste cose non si è veramente innamorati oppure l'amore è morto o è calato un grande matrimonio permettetemi insomma io potrei forse idealizzare diciamo così dall'alto tra virgolette della mia non conoscenza perché non conosco la vita matrimoniale per esperienza la conosco soltanto come dire per conoscenza ma non per esperienza ma un grande matrimonio è quello dove due spose arrivano 80 anni e ancora stanno inventandosi qualcosa per rinnovarsi il ti amo continuo che si dicono ogni giorno in tutti i modi possibili questo è un grande matrimonio inventarsi qualche cosa di nuovo ecco perché i giri più belli sono quelli che ci inventiamo tu prova a chiederti ma il signore potrà dire sta cosa me l'ha detta solo lei me l'ha detta solo lui non c'è nessun altro che sia inventata una cosa del genere immaginate che bello se ci inventassimo qualche cosa e ciascuno di noi ha la possibilità di farlo perché attenzione siccome noi ognuno di noi è un essere unico e irripetibile il nostro modo peculiare di amare è irripetibile e proprio quello vuole il signore da noi vuole vedere certamente nel divino volere ma vuole vedere te nel divino volere me hai visto la prima parte di questo scritto i punti quante volte i punti luminosi dice la terra giace sotto il potere delle tenebre scrive San Giovanni no è sotto il potere del diavolo è buio dice però noi dal cielo si fa immaginarsi la stascena come si affaccia e ogni tanto vede dei punti luminosi è come quando uno gira la notte si fa le passeggiate notturne che vede qualche lucciola è una bellissima esperienza fare questa cosa qui darsi a fare qualche passeggiata by night possibilmente in posti proprio bui dove non c'è proprio neanche la luce artificiale e vedere ogni tanto sto puntino che è uno spettacolo veramente impressionante ecco un po' così è dal cielo tutto buio ma ogni tanto si vede sto puntino l'anima in cui sta la mia volontà è il punto luminoso del mondo e come è bello vedere dal cielo questi punti luminosi nel fondo sulla terra oh attenzione bellissime queste espressioni dove ci stanno questi punti viene arrestata la corrente del male c'è un muro qui il male non entra qui il male non passa qui il male non può come disse Gesù prima della passione viene il principio di questo mondo egli non ha nessun potere su di me e infatti non ce l'aveva il potere il diavolo l'ha preso su Gesù solo perché a un certo punto d'accordo tutte le persone della Santissima Trinità il padre lo voleva il figlio l'ha accettato e lo Spirito Santo l'ha disposto da quel momento in poi il figlio dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori attenzione ma è una consegna dipendente dalla volontà divina altrimenti nessuno avrebbe potuto nemmeno sfiorarlo al nostro Signore la riflessione anche su queste cose ci dà sempre una grandissima speranza prima abbiamo fatto qualche riferimento alle molte cose che ci stanno da riparare tantissime è anche vero però che la volontà permissiva dell'Altissimo ci sta lasciando cadere così in basso per i suoi disegni certamente disegni di rinascita e di purificazione questo è sicuro questo qui non è assolutamente dubitabile però dopo ci stanno questi punti il male si ferma qui giungerai disse Dio al mare e non oltre si infrangerà l'orgoglio delle tue onde se c'è un punto dove c'è la divina volontà il male aria tu qui non entri non c'è posto per te non c'è posto il male in tutte le sue forme fisico psichico morale spirituale questo perché dove c'è la divina volontà il male non entra ma arriva la luce arriva la bellezza arriva la santità arriva la vita che non muore la vita eterna dice Gesù invece dove dimora la volontà umana cosa c'è? male turbazione disordine e cose del genere diamoci un'occhiata in giro uno sguardo intorno dove non c'è di involere tenebre ombra inquietudine aria malsana frutti immaturi bellezza scolorita bene investito di nebbia sono delle immagini meravigliose ciascuna di queste potremmo parlare mezz'ora mezz'ora per una Gesù è sempre molto molto incisivo nelle nelle similitudini e nei paragoni che usa bene c'è forse tempo di dare un'occhiata anche a a un altro scritto sì forse sì rapidamente sempre volume 24 e stavolta 29 aprile 1928 un po' prima cronologicamente le virtù che sono germi piante fiori e frutti è la divina volontà che è vita le meraviglie del ti amo voglio imperlare tutte le cose create col mio ti amo per te scrive Luisa la mia povera mente la mia povera mente è sempre in balia del fiat supremo mi sembra che non so pensare ad altro ne voglio occuparmi di altro sento come una corrente in me che ora si ferma ad un punto e ora ad un altro del volere divino ma sempre in esso vado a finire senza prendere mai tutta la sua luce interminabile perché ne sono incapace ed il mio amabile Gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto facendomi una sorpresa figlia mia quando l'anima pratica una virtù il primo atto che pratica forma il germe come pratica il secondo e il terzo atto e così di seguito così coltiva il germe lo innaffia cresce in pianta e porta i suoi frutti se poi si pratica una sola volta o qualche volta il germe non viene innaffiato né coltivato muore e l'anima resta senza pianto e senza frutto perché non forma mai una virtù un atto solo ma ripetuti atti oh questo non dimentichiamolo mai e facciamo in questo caso la lettura con pause e a glosse una virtù non si forma con un atto ci vogliono ripetuti atti una rondina non fa primavera la vita cristiana è impegnativa perché ripetizione 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 succede come alla terra non basta gettarle il seme nel suo seno conviene spesso coltivare la terra innaffiarla adesso soprattutto che è estate se si guarda la pianta di frutto di quel seme altrimenti la terra si fattura sopra il seme e lo seppellisce senza dargli la vita ora chi vuole la virtù della pazienza dell'obbedienza ed altro deve gettare il primo germe e poi con altri atti innaffiarli coltivarli e così nell'anima sua formerà tante belle diverse piante ora invece la mia volontà non è germe come la virtù ma è vita e come l'anima incomincia a rassegnarsi a guardarla in tutto e a vivere in essa così viene formata nella piccola vita divina e come l'anima si va inoltrando nella pratica di vivere nel mio volere così cresce e si va ingrandendo questa vita divina fino a riempire l'anima di tutta questa vita in modo che non resta di lei che è il solo vero che la copre e la nasconde dentro di sé e come alle virtù così per la mia volontà attenzione ecco la necessità di comprendere bene se la creatura non dà l'alimento continuo degli atti suoi in essa in essa con la E maiuscola atti fatti nella divina volontà alla piccola vita divina questa non cresce e non la riempie tutta intera succede come ad un bambino nato che se non si alimenta muore sul nascere perché la mia volontà essendo vita ha più bisogno delle virtù che sono immagine delle piante del continuo alimento per crescere e formarsi vita intera per quanto è capace una creatura ecco perciò la necessità che tu viva sempre in essa per prendere il suo cibo prelibato dallo stesso mio volere per alimentare la sua vita divina in te vedi dunque che gran differenza che c'è tra le virtù e la mia volontà le prime sono piante fiori e frutti che abiliscano la terra e direttono le creature invece il mio Fiat è cielo, sole, aria calore, palpito cose che formano vita vita divina nella creatura quindi amala questa vita e dà l'alimento continuo affinché tutto ti riempie non la resti di te facciamo una pausa anche perché questa è la prima parte di questo scritto vedete come Gesù è molto acuto allora sta dicendo due cose molto importanti le virtù l'immagine analogica sono le piante mentre la divina volontà l'immagine analogica è la vita quindi un albero facciamo così è un bambino è chiaro che il valore di un bambino in confronto a un albero è incommensurabile perché un albero è un vegetale un bambino è un essere umano è una vita c'ha l'anima ecco quindi vedete come Gesù è sempre molto intelligente quindi non c'è proporzione ok tra queste due realtà è molto più grande la seconda attenzione però diciamo va bene adesso via via divina volontà 4 e 4 8 basta che voglio dire in essa finito non è così non è così anche le persone che sono impazienti d'accordo che dall'oggi al domani leggono quattro pagine degli iscritti allora mail oppure telefonata allora come si fa a entrare nella divina volontà subito dico quante volte se uno sente i miei interventi ma presumo anche quelli degli altri non è che c'è una formula magica o un segreto che dice paff è un'attivazione continua perpetua costante di tutti quanti gli atti che alimentano questa vita così come per le virtù la pazienza come si alimenta che o volontariamente quindi per esempio offrire un sacrificio al signore un sacrificio che ti costa tra gli effetti accidentali sicuramente alimenta la virtù della pazienza perché la pazienza consiste nel sopportare i mali se io mi infliggo una mortificazione una penitenza tra le altre cose sicuramente cresce la pazienza 100% compiendo un atto di questo genere è chiaro che se io non rinuncio a niente non sono capace a fare neanche un piccolo sacrificio non sta la pazienza al primo incomodo al primo problema alla prima scaramuccia alla prima contrarietà a sclero normale allora come si fa a sentire la vita nella divina volontà ce lo siamo detti infinite volte tutto quello che si può fare più si fa e meglio è chiaramente senza diventare fuori di testa o d'accordo o fare cose scomposte che uno ci arrivi però atti preventivi atti di fusione piccoli o grandi atti attuali giri prese dei ti amo dappertutto ovunque uno faccia quando mangi quando bevi quando dormi ti fondi prima che mangi prima che bevi prima che dormi tutto 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 il possibile e l'immaginabile più ne vai è meglio ore della passione tutti i giorni per esempio i famosi orologi viventi attenzione chi sta seguendo le dirette o queste cose che stavano degli orologi viventi che abbiamo avuto un'esperienza non positiva d'accordo formati gli orologi c'è la gente che se ne è uscita o ha smesso di farli così uè ecco cioè chi vuole vivere nella divina volontà per esempio io credo che debba entrare nell'ottica che le ore della passione se le abbraccia e da adesso fino a quando muore è così cioè da 1 a 24 poi da 1 a 24 poi da 1 a 24 vita natural durante perché ogni volta che tu fai un'ora della passione fai un giro nel fiat redimente questo penso che abbiamo compreso tante volte l'ora della passione non è semplicemente meditare sulle sofferenze di Gesù che già di per sé è un atto santificantissimo ma è un girare perché ci sono i baci ci sono i ricambi d'amore conosciamo come sono fatte le opere le ore della passione anche facendo una continuazione ti si forma dentro il cuore una certa attitudine perché a meno che non le fai in maniera sciatta quindi con la testa per aria a forza devi sentire e io ti bacio la mano destra ti bacio la mano sinistra ti bacio il piede destro il piede sinistro e poi la fronte coronata di spina e poi il cuore e poi la bocca e poi forza devi fare così qualche cosa te resterà quindi ti plasma anche l'interno in modo tale che poi uno dovrebbe essere facilitato quando si mette a girare liberamente te li inventi tu ha voglia a far girare nell'umanità di Cristo e nell'umanità della Madonna ce ne sarebbero ha voglia occasioni per cercare di andarsi a inventare qualcosa e sognare perché sognare non è peccato desiderare le cose troppo grosse può essere peccato ma sognare non è mai peccato quindi sognando che magari qualche cosa a Gesù e la Madonna non gliel'ha mai detta nessuno così come gliel'ho detta io o un sacrificio un'offerta ma sapete questo è un campo potenzialmente infinito questo non gliel'ha offerto nessuno o pochi ma non per superbio perché vogliamo sentirci Padre eterni in terra ma no capito come dicono le umiltà le italiane dell'umiltà vorrei che tutti fossero più santi di me e sarei ben felice perché se sono più santi di me vuol dire che il mio amato è contentissimo però purché io divenca santo quanto possa vorrei c'è il grande cardinale Merri del Vardo quindi analogamente alla vita nelle virtù quindi quando qualcuno contrappone troppo la vita nelle virtù la vita nella divina volontà certamente c'è un salto di qualità però appunto primo la vita nella divina volontà presuppone la vita nelle virtù non è che la esclude ma appunto secondo presenta delle fortissime analogie perché come la vita nelle virtù non c'è senza una continua ripetizione così la divina volontà non si plasma non entra la vita non cresce rimane un bambino un bambino deve diventare un uomo e io oggi tengo 50 anni se uno vede le foto di quando avevo 3 anni e fa attenzione il bambino che ha 3 anni assomiglia un pochino a me non proprio da troppo perché ci sono alcune cose che avevo e che adesso non ci sono più però alcuni tratti che ne sono lo sguardo il sorriso si vede che quel bambino è poi quell'uomo però insomma c'è una grossa differenza tra un bambino di 3 anni e un uomo cosa è successo ci saranno 47 anni di vita vissute quindi che succede in 47 anni tanta roba poi come sono andati Dio solo lo sa però sicuramente non è la stessa cosa allora nella divina volontà non c'è una crescita cioè gli esseri umani da 50 anni se non muoiono prima per qualche incidente o qualcosa ci arrivano comunque quindi perché c'è il tempo che procede però bisogna vedere come ci arrivi a 50 anni d'accordo o nelle cose dello spirito dopo darsi che rimani a un anno di vita rimani un perpetuo bambino questo vale anche per la vita di grazie ordinarie come dice San Paolo ai suoi dice voi non siete capaci di prendervi il cibo solido vi devo ancora dare il latte dei poppanti perché non avete fatto in modo che la vostra fede la vostra speranza e la vostra carità crescessero e queste crescono esercitandole la fede cresce se tu ne alimenti se tu approfondisci la verità di fede le conosci se conosci bene i comandamenti la grazia cresce se preghi se frequenti i sacramenti se moltiplichi le opere buone se fai penitenza se offri al Signore dei sacrifici la speranza cresce i giri ah i giri fanno fanno partire la speranza che per esempio la speranza è una insieme alla carità e anche alla fede ma è una virtù che si esercita alla grande nei giri ecco e vediamo la seconda parte di questo scritto andando verso la conclusione dopo di ciò seguivo il mio giro nel Voer Divino ripetendo il mio ritornello del mio ti amo stavo dicendo Gesù amore mio sentite voglio lasciare tutto l'essere mio nel tuo Fiat per potermi trovare in tutte le cose create per imperlarle col mio ti amo anzi voglio mettere il mio cuore nel centro della terra e come palpito così voglio abbracciare tutti i suoi abitanti e seguendo tutti i loro palpiti col mio ti amo voglio darti l'amore di ciascuno di essi ecco qua vedete che si sta inventando questa cristiana si è inventata un bellissimo giro no? poi non l'abbiamo sentita e possiamo copiarla ha lasciato scritto ecco se non l'avesse lasciato scritto forse magari non ci avrebbe pensato nessuno dice allora Dio è degno di amore infinito ma che cosa ne posso inventare facciamo così siccome mi metto nel centro della terra facciamo finta che la terra diventa una specie di mega cuore che assorbe tutti i cuori di tutti a ogni palpito di tutti quanti i cuori degli esseri creati che sono stati furono e saranno sono sulla terra io ci metto un ti amo e così ti riporto è come se tutti gli esseri umani ti avessero amato ma io comunque ti amo ciascuno di loro lo capite no? quanto si moltiplica un ti amo tu dici a che serve che sto qui a come che serve allora se io dico un ti amo di mia spontanea iniziativa supponiamo che sono bravo come suor consolato a Betrone no? che è l'apostola dell'atto d'amore passo una giornata intera a dire Gesù ti amo allora se fossi capace di passare una giornata intera a dire Gesù ti amo quanti ti amo avrò detto a Gesù vabbè per dire a Gesù ti amo almeno un secondo ci vuole quindi se fanno presto i conti un secondo lo moltiplichi per 60 hai detto 60 Gesù ti amo in un minuto giusto? poi 6 per 6 360 per 60 fa 3600 ti amo in un'ora niente male ma termine 600 ti amo in un'ora vuol dire che in 10 ore gli hai detto i 36000 in 20 72000 4 ore di dormirai quindi 72000 ti amo al giorno Gesù ti amo al giorno massimo puoi dire ma se tu dici metto il mio ti amo nel centro della terra e così raggiungo capite che significa farlo nella divina volontà cioè con un atto con questo semplicissimo atto ma quanti sono i palpiti di tutti quanti gli esseri umani cioè quanti palpiti fa il mio cuore da adesso fino a quando muoio ecco il conto diventa un po' più complicato ma io sono uno degli esseri umani del pianeta della terra ma quanti ce ne sono stati dal primo all'ultimo uomo e voi mi immaginate cioè mettere un ti amo in ogni palpito di essere umano che c'è ci fu e ci sarà io con un istante mentre se lo faccio da solo con una giornata posso dire 70.000 Gesù ti amo ma con un istante ho detto un numero che soltanto Dio sa sa calcolare ma si tratta di trilioni di trilioni cioè che se io che impassi 100 anni e non facessi altro dalla mattina alla sera non potrei dire tanti ti amo a Gesù quanti gli hanno detto con cui inventando questa cosa che si è inventato Luisa adesso ma dico ci rendiamo conto di cosa significa attenzione che qual è l'importanza di questo atto non soltanto il ricambio di amore dato dall'altissimo ma voi sapete che le virtù crescono con la rivenzione degli atti quindi ogni Gesù ti amo diceva Gesù sorconsolata è un aumento della carità in te perché la carità ha come primario oggetto il nostro è l'amore di Dio quindi tu tanto più ami Dio quanto più glielo dici glielo manifesti certo non basta come dice San Giovanni dire ti amo ti amo ti amo e poi sei un diavolo quindi no ecco quindi alle parole deve seguire insomma almeno un impegno a fare una vita nell'osservanza dei comandamenti Gesù dice se mi amate osservate i miei comandamenti non facciamolo troppo semplice no però tutto ciò premesso e dato per facciamo per scontato ogni atto di amore determina un aumento della carità e se io faccio una cosa del genere ma quale aumento ci sarà in me della virtù di erogare della carità è assolutamente imponderabile non solo sentite che altro si è inventato e come si ripete il mio palpino mi sono messo nel centro della terra quindi innanzitutto raggiungo tutti quanti i cuori di tutti gli esseri umani ma non basta guardate cos'altra si inventa e come si ripete il mio palpino da dentro il centro della terra così voglio mettere il mio ti amo a tutti i germi che racchiude nel suo seno e buonanotte e come i germi spuntano e si formano le piante le erbe i fiori così voglio mettere il mio ti amo per poterli vedere racchiusi nel mio ti amo per Gesù a voi se ne è inventata un'altra tutti i germi ma voi vi immaginate pensiamo soltanto all'erba ma quanti steli di erba in continuazione spuntano dalla terra in tutta la terra e da quando la terra è stata fino a quando la terra finirà ma quanti steli di erba sono spuntati ma capite che roba che è puff te sei parte un autotreno insomma di cose no attenzione ma mentre ciò dicevo sentite adesso il mio pensiero ha interrotto il mio ritornello del ti amo dicendomi ma quante sciocchezze dici ma Gesù stesso ne sarà stanco di sentire la tua lunga cantilena ti amo ti amo e Gesù e Gesù se si potessero se si potessero vedere da tutte le creature imperlate tutte le piante gli atomi della terra le pietre le pietre le gocce dell'acqua col tuo ti amo riempita la luce del sole l'aria che respira nel cielo che vedono col tuo ti amo le stelle ma quale vera meraviglia non susciterebbero in loro ma quale dolce incanto non attirerebbe le loro pupille a guardare il tuo ritornello e la lunga cantilena del tuo ti amo direbbero ma possibile non si è fatta sfuggire nulla noi stessi ci sentivamo parlati col suo ti amo ed andrebbero curiosando e indagando tutto per vedere se di fatto nulla ti fosse sfuggito per godere l'incanto del tuo ti amo anche qui che ci siamo inventati noi dove l'abbiamo portato il nostro ti amo avanti inventiamoci qualcosa va a fare guardate la fantasia di Luisa chi gli era insegnato queste cose gli era insegnato lo spirito santo dal dentro del suo cuore ho detto che io insomma qualche esempio di giro l'ho fatto qualche volta che me lo sono risentito anche per dire dico me lo sento così mi faccio un giro non mi dà quasi fastidio non perché cioè perché un giro non può essere pubblico d'accordo per quanto un giro è proprio un atto personalissimo certo lì è un piccolo aiuto che qualcuno mi ha chiesto facciamolo però sono venuti male a me non piacciono granché ecco perché si vede che è una cosa pubblica quindi c'è il cuore come dire c'è il cuore trattenuto c'è il cuore a metà perché c'è sempre un certo doveroso diciamo così riservo e pudore no sacro spirituale Gesù distaccati dalla terra perché l'amore li unisce insieme e forma le stesse note le stesse armonie e poi tu devi sapere che io non mi stancai in tutte le cose piccole o grandi quando furono create di imperlarle con i miei ripetuti ti amo per te e come non mi stancai nel metterli così non mi stanco di sentirti ripetere da te anzi ne godo che il mio ti amo non resta isolato ma tieni la compagnia del tuo che facendo ecolo il mio si fondono insieme e fanno vita comune e adesso Gesù fa un grande finale e lo usiamo anche noi come finale perché questo è un finale che è proprio la grande che poi in un certo senso Gesù mi avalla da dove siamo partiti l'amore non stanca mai ma invece mi è portatore di gioia e felicità siamo partiti da questa considerazione ma che ci sta dietro a queste cose cosa c'è dietro no cosa c'è dietro se potesse creerebbe il cielo e la terra per me solo un cuore innamorato si esce con queste cose che non sa più che altro andasse a inventare per fare contento l'amato per dimostrargli che gli pensa che gli vuole bene cioè quando è che noi ci sentiamo amati da qualcuno quando ci accorgiamo che ci pensa ci desidera fa delle cose per noi ci sorprende ci fa percepire cioè si studia di farci percepire dice io l'amo tanto a mio marito poi vai a sentire guardi con il marito senti un po' ma ti amo tua moglie beh lei dice di sì ma io non mi accorgo di niente ma che è? un amore che non si fa percepire dall'amore dall'amato a che serve? guardate che nei rapporti con il signore è la stessa identica cosa identica l'amore non stanca mai e questo è il mondo di e quindi se una persona ha malattissimo non si stancherà mai di inventarsi qualcosa per mostrargli come meglio immaginate no? Gesù ha detto il ti amo in tutti gli atomi della Terra ma quanti atomi ci stanno sul pianeta Terra? ma sappiamo che l'atomo è una particella elementare basta metto il mio ti amo in tutti gli atomi del pianeta Terra Terra intesa come Terra e mare ma vi immaginate gli atomi che ci stanno in tutti quanti gli oceani senza scomodare Enrico Fermi tu dici metto il mio ti amo in tutti gli atomi del pianeta Terra quanto ci ho messo a dire questa cosa? fu chiuso a dire tre secondi? in tre secondi hai detto una quantità di ti amo a Dio che ripeto cioè noi abbiamo le potenze per i numeri troppo grandi 10 elevato alla millesima ma qui non puoi fare neanche 300 trilioni elevate alla 300 trilionesima è più grande il numero se cominciamo ad andare con gli atomi quindi capiamo che è bello e cosa ti resterà a te e cosa produrrà tutto questo e cosa produrrà nel cuore di Gesù se ce lo spiega poi rimane sempre provare per credere quindi buoni giri a tutti e ci sentiamo se Dio vuole alla prossima puntata Dio vi benedica e la Madonna vi protegga grazie a tutti